Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. La Guardia di Finanza di Trento ha sequestrato circa 150 mila litri di pregiato spumante DOC per un valore alla produzione di oltre un milione e mezzo di euro prodotti da una nota casa Vinicola Trentina in fallimento dalla fine del 2017. Dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trento è emesso che i titolari dell'azienda indagati per bancarotta fraudolenta stavano tentando di far uscire dai magazzini dell'impresa in modo illecito grandi quantità di spumante dall'elevato valore commerciale. L'azienda è ora sotto procedura fallimentare ed è attualmente gestita da un curatore nominato dal Tribunale di Trento. La vendita delle giacenze di magazzino del pregiato spumante sarebbe servita, una volta messa regolarmente in commercio, a soddisfare i creditori dell'azienda in bancarotta tutelati dal curatore stesso. La Guardia di Finanza ha approfondito le investigazioni e quindi ha segnalato la circostanza alla Procura presso il Tribunale di Trento, ottenendo un decreto di sequestro preventivo di tutte le giacenze del magazzino sottratte. In questo modo, a tutela dei creditori dell'azienda fallita, sono state sequestrate 200.000 bottiglie di spumante DOC. Ricordiamo che il delitto di bancarotta fradolenta punisce con la reclusione fino a 10 anni. L'imprenditore ha dichiarato fallito che abbia compiuto uno o più atti per nascondere, distruggere o vendere senza autorizzazione in tutto in parte i beni dell'azienda fallita. Torniamo alla cronaca ancora. Una volta caduta accidentalmente nel fiume Volano è stata poi salvata dall'intervento di un finanziere. E' accaduto praticamente intorno alle 14.30 dove un militare udiva dalla sua abitazione delle urla provenire in lontananza dalla darsena del fiume Po a Volano. Ad una distanza di circa 300 metri sulla sponda opposta del fiume notava in prossimità della riva, in una zona dal fondo melmoso, una donna di circa 60 anni che si dibatteva appunto tra le acque del fiume. Il militare senza indugio si portava sul luogo e afferrava la donna in gran parte ormai immersa nel fango. Si tratta dell'appuntato scelto Matteo Palma in forza alla sala operativa del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara. Alle 5.30 di questa mattina al culmine di un litigio in casa tra due cittadini rumeni, un giovane di 28 anni, Beniaru Yonut Georgiani, ha colpito con un coltello da cucina con un solo fendente alla gola il suo coinquilino Sutta Georg, operaio di 37 anni, uccidendolo. A dare l'allarme è stato il terzo inquilino testimone oculare del delitto, un cittadino rumeno di 41 anni che avrebbe avvertito un amico in grado di parlare l'italiano. Vittima e presunto omicida lavoravano a Marghera come operai nello stabilimento della Fincantieri. Non sono ancora note le cause del gesto. L'arrivo dei carabinieri, l'aggressore in Italia da pochi mesi, a differenza invece della vittima e del testimone, qui ormai da qualche anno, non ha opposto resistenza. Il presunto omicida è stato interrogato in queste ore nella caserma di Mestre ed è anche stato recuperato il coltello ancora sporco di sangue usato per il delitto. Potrebbero essere circa 30.000 i bambini sotto i 6 anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno poi ammessi a scuola perché ogni regione si comporterà in modo diverso. Lo ha affermato il past presidente della Società Italiana di Igiene, Carlo Signorelli, alla vigilia della scadenza del termine del 10 marzo per la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare l'esclusione da nidi e materne. Poco prima delle 5 di questa mattina un mezzo pesante è finito fuori strada lungo la statale 516 a Piove di Sacco. Il conducente estratto dal veicolo rovesciato è stato poi portato all'ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente autonomo che ha coinvolto un camion che viaggiava verso Padova. Il mezzo si è rovesciato su un fianco finendo fuori strada dalla parte opposta rispetto alla sua corsia di transito. I pompieri sono arrivati sul posto con l'autogru mettendo in sicurezza il camion ed estraendo dalle lamiere il guidatore. L'uomo è stato soccorso e preso in carico dal personale del SUEM 118 e quindi trasportato all'ospedale. Forse qualche cultore della fantascienza ricorderà il film In Viaggio nel Tempo, una serie televisiva americana a vincitrice di ben 5 Emmy e di due Golden Globe. Si tratta di uno dei più popolari telefilm dell'epoca che ha inserito i primi richiami alla fisica quantistica. Ma quanto distanti siamo dalla fantascienza e quanto questo approccio sta rivoluzionando la vita di tutti i giorni? Fabio Fracas, docente di fisica applicata alla radioterapia e alla radioprotezione al Dipartimento di Medicina della Università di Padova, ha deciso di adentrarsi in un viaggio nella fisica quantistica, nelle sue logiche, potenzialità, applicazioni e possibili sviluppi. Ne hai dato un libro dal titolo Il mondo secondo la fisica quantistica, segreti e meraviglie della scienza che sta cambiando la nostra vita e che è stato presentato nella sala consigliare della provincia di Padova, rappresentata dal vicepresidente Fabio Vui. Vediamo. Allora, la fisica quantistica è una disciplina della fisica che è in questo momento l'attenzione delle persone perché ha delle conseguenze, delle indicazioni molto interessanti e perché sta cambiando la nostra modalità di vedere il mondo. Ci permette di avere una lente diversa da quella della fisica classica che noi tutti abbiamo imparato a scuola per conoscere tutto quello che ci circonda, tutto quello che c'è attorno a noi. A circa un mese dalla scadenza del suo mandato, il comune di Padova ha consegnato oggi pomeriggio alle 16 ad Antonio Finotti il sigillo della città come segno di riconoscimento dell'attività svolta in questi anni come presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Padova Erovigo. La consegna è avvenuta presso l'auditorium del Centro Culturale San Gaetano in via Altinata. La Despar ha chiuso nel 2017 nel nord-est un fatturato complessivo al pubblico del 4,5% in più quindi a 2,16 miliardi di euro. Lo ha reso noto Aspiag, concessionaria Despar per Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna. L'azienda conta in totale 7.832 dipendenti ed è presente nel territorio con 228 filiali dirette a insegna Despar, Eurospar e Interspar e con 343 punti vendita gestiti da dettaglianti sempre con lo stesso marchio. Cambia la viabilità nella zona della stazione ferroviaria con la rimozione degli impianti semaforici che regolavano gli incroci tra il boulevard della stazione e la parte principale di piazzale della stazione e tra via Cairoli e Corso del Popolo. Si rendono infatti necessari alcuni adattamenti. Tolti i semafori che insistevano sulla corsia preferenziale del tram in direzione sud e chiusi di conseguenza i barchi di viabilità viene riadattata per consentire un corretto flusso. Sul boulevard cambierà il senso di marcia e da via Vixio, angolo con l'hotel ex-hotel Monaco sarà obbligatorio svoltare a sinistra in direzione cavalcavia Borgomagno. Via Cairoli sarà senso unico nel tratto tra Viale Codalunga e l'incrocio con via Vixio che a sua volta sarà tutta a senso unico nella direzione di via Nicolò Tomaseo verso la stazione. Domenica 11 marzo dalle ore 9 alle ore 18 presso il chiostro dell'ex convento Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto si terrà il terzo appuntamento del mercato della biodiversità. Il mercato della biodiversità si svolge ogni seconda domenica del mese da gennaio a giugno 2018 evento fisso organizzato dal comune di Sanguinetto in collaborazione con l'associazione Apetiglia e l'associazione culturale La Pianura con i vari rami La Pianura Cultura e il Festival Vegetariano. Torna in Italia il Banff Film Festival dal 16 al 21 marzo a Treviso, Padova, Vicenza e Verona. I più bei film di montagna del mondo dedicato agli appassionati di montagna e di outdoor. Il festival a livello nazionale prevede 29 tappe in 27 città con un tour che attraversa tutto lo stivale. Il gruppo di mutuo aiuto rivolto ai familiari adulti del malato e l'iniziativa Giovani in Ascolto dedicata ai ragazzi che si trovano ad affrontare la malattia oncologica a questo secondo progetto. In particolare saranno destinati i fondi raccolti dall'associazione grazie alla partecipazione alla Padova Marathon. I progetti sono stati illustrati a Palazzo Moroni nel corso di una conferenza stampa proprio dalla presidente dell'associazione Volontà di Vivere Anna Donega ed era anche presente la mezzo fondista Nadia Dandolo che parteciperà alla Padova Marathon proprio con i colori dell'associazione. Vediamo. Oggi abbiamo incontrato l'associazione Volontà di Vivere che si sta impegnando da tantissimo tempo nell'assistenza alle persone malate in particolare con diagnosi di tipo oncologico e c'è la riconoscenza da parte della comunità per chi si impegna perché di fronte al dolore, di fronte alla malattia già il fatto della condivisione, della vicinanza è un aiuto enorme e quindi ecco vedere che si riesce ad organizzare la vicinanza, l'assistenza e la condivisione di questi momenti di dolore è importantissimo e quindi ecco io mi auguro che la città di Padova riesca a dare delle risposte sempre efficaci a chi ha questi momenti di solitudine di fronte alla diagnosi della malattia e nella condivisione possa trovare la forza per superarla. Stiamo partendo con due progetti nuovi, un gruppo di mutuo aiuto per familiari adulti di pazienti oncologici, quindi coniugi, genitori, figli, adulti e un altro gruppo di sostegno psicologico per ragazzi nella fascia d'età 16-20 anni abbiamo pensato principalmente a figli, però potrebbero anche essere nipoti insomma ecco comunque ragazzi che hanno affrontato, che stanno affrontando la malattia di un familiare stretto ecco perché riteniamo che quando ci si ammala quando una persona si ammala in realtà si ammala tutta la famiglia e quindi è necessario estendere il nostro aiuto a tutti i familiari. Per il primo anno partecipiamo al charity program della Maratona di Sant'Antonio per raccogliere fondi, in particolare per il progetto Gioia di Vivere che è il progetto rivolto ai ragazzi, quindi rivolto ai ragazzi familiari dai 16 ai 20 anni. È possibile partecipare sia alle straccittadine per volontà di vivere sia alla mezza maratona o alla maratona intera. Basta contattare la segreteria e offriamo il pettorale e la maglietta in cambio chiediamo una piccola raccolta fondi. Quando mi è stato proposto ho subito aderito perché queste iniziative sono utili, danno molto e quindi sia come atleta che come persona malata insomma ecco non potevo dire di no e ne sono onorata poter dare un contributo anche se piccolo, però darlo. Quindi con il cuore proprio ringrazio loro di avermi fatto partecipare a questa iniziativa. Dovrebbero venire in molti perché aiutano se stessi e aiutano anche gli altri quindi spero che ne vengano tantissimi. Bene, è tutto per quanto riguarda il nostro spazio informativo. Ci diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Buona visione dei nostri programmi. Grazie a tutti.